eccoci qua buongiorno oggi 27 di dicembre benvenuti sul mio canale youtube cominciamo a fare una panoramica di tutto quello che abbiamo davanti agli occhi benvenuti siamo sbarcati abbiamo fatto 5 chilometri a piedi buon natale 5 chilometri a piedi eccole qua le sirenette del mare eccole qua molto bene è il nostro lui ci ha guidato ieri a cavallo con una sicurezza ci siamo sentiti tutti molto sicuri bene perfetto un saluto a baco qualora di caraibico al massimo all'ombra 5 chilometri a piedi chiara che si mette la crema benvenuta chiara buongiorno e poi abbiamo chicco eccolo qua eccolo qua perfetto silvia è la nostra coordinatrice di qualcosa per noi grazie sì e basta ti ha detto solo quello potete dire quello che volete sarà poi fruibile sul canale youtube questo video è sì certo sarà pubblicato sarà tutto documentato e ce l'ho io quindi chiara cleo guarda questa ragazza si chiama come la mia collega di lavoro clea però lei si chiama cleo come come la mia collega perfetto bene guardate qua che sorrisi e che felicità che felicità molto bene guarda qua li ho presi tutti è in un solo colpo bene